Blizz e congiunto questa mattina di vigili urbani, guardia costiera, polizia, carabinieri, guardia di finanza in via Cristoforo Colombo a Trapani, nelle licenze del porto Peschereggio. Lì infatti, in barba alle norme igienico-sanitarie, gli operatori, pescatori e rigattieri vendono i loro prodotti ittici esposti ai gas di scarico delle auto in transito non potendo usufruire del mercato del pesce che è stato giuso. L'intervento delle forze dell'ordine, che non sono stati eseguiti tuttavia se questi di merce, ha scatenato la protesta degli operatori della pesca che hanno raggiunto Palazzo Dalì per manifestare il proprio malcontento così in una piazza blindata dalle forze dell'ordine hanno fatto sentire la propria voce. In pratica, essendo il mercato del pesce chiuso, voi vi mettete a vendere i vostri prodotti in mezzo alla strada cosa che non si può fare, giusto? Sostanzialmente è così, ma ripeto, noi abbiamo espletato quello che il Comune ci ha chiesto in quanto siamo assegnatari dei posteggi perché abbiamo aderito alla domanda e quindi abbiamo fatto tutto quanto. Poi di punto in bianco, a chi eravamo dentro il mercato, si parlava solo di un paio di settimane il Comune doveva chiudere il mercato per un paio di settimane però ci siamo visti poi le porte chiuse, sbarrate e quindi non possiamo stare sei mesi senza lavorare. Lui vuole che noi paghiamo senza che abbiamo acqua, senza che abbiamo un posto, un banco dove lavorare i servizi non ne abbiamo proprio, io dovrei pagare una quota al mese, all'anno, non so, giusto la situazione e poi io non devo avere neanche l'acqua per lavarmi le mani dove mi metto poi? Un servizio, non ne abbiamo servizi e lui vuole che noi paghiamo senza servizi ma che cosa dobbiamo pagare? Servizi igienici. Non esistono proprio, non ne parlavamo perciò. Hanno fatto sotto il bangone la fognatura, mica è giusto questo qua fare queste cose. Io sto dicendo che il bangone che ci avevamo dato, la fognatura passava da sotto, cioè quindi l'igiene del vendere il pesce, cioè era, non c'è. Una delegazione di operatori è stata poi ricevuta dall'assessore Giglio. È stato deciso che noi pescatori vogliamo una prologa per aderire tutti i documenti del mercato e l'assessore Giglio è venuto e come ne ho già detto che voleva, non può mettere una firma a lui e decidere che aprire il mercato, deve fare diverse telefonate per vedere una procedura, per vedere se possiamo adeguire al mercato. Per adesso non possiamo vendere pesce come oggi, però noi pesce, io oggi sono andato a lavorare, i pesce non li ho potuti vendere, ce li ho a bordo, come faccio? Come le altre pure, ricattieri, pescatori. Vogliamo solo vendere pesce, una prologa di 15 giorni per vendere pesce. Vogliamo solo vendere pesce, una prologa di 15 giorni per vendere pesce.